Amici dei porcini, 23 novembre sui sette fratelli, strano a dirsi però, sono rispuntati i porcini neri, non sono molti però, guardate un po' che bestia, un po' inzuppatino d'acqua, perché questi giorni è piovuto tantissimo, però guardate che fungo da mezzo chilo, bellissimo, questo da fare con le pappardelle, 23 novembre, 23 novembre, ciao a dopo. Guardate che porcino nero che è lì sotto il corbezzo, io vado, guardate un po', che bel porcino nero, guardate, oppalala, guardate, bello, 23 novembre, strano, in questo periodo qui in Sardegna i porcini neri non sono frequentissimi, però capita che ogni tanto qualche annata buona, piovosa, sia buona, guardate un po', bello, a dopo. Amici e amici, sempre noi, guardate un po', fine di novembre, che spettacolo, un porcino nero solo soletto, guardate che bestia, guardate che fungo spettacolare, un porcino nero, un porcino nero, un porcino nero, è favoloso, pochi però, bellissimi, ciao, guardate, è fisio, che bel porcino nero che ha trovato, guardate un po', spettacolare, eh, è fisio, meraviglioso, fammelo vedere, meraviglioso, bellissimo, guarda un po', eh, mezzo chilo di porcino, 23 novembre, eccezionale, amici, porcini neri, guardate un po', due, dei porcini neri, eh, gemelli si ammeli, bellino, questo è un po' di muffa qui, però è buono, guardate questo, e questo dovrebbe essere il fratello, sicuramente, guardate, eh, fine novembre, è nata strana, per i porcini, eh, guardate, belli, eh, cosa vogliamo dire, del porcino, alle prossime, ciao, siamo sempre sui sette fratelli, guardate, questo porcino nero, eh, ormai stanno diventando rari, i porcini neri, però, guardate, eh, vecchiotto, però questo è saporitissimo, eh, guardate un po', eh, uno, e poi ce n'è un altro, qua, in mezzo, eccolo qua, guardate, 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 questo porcino nero, dove è cresciuto, eh, vediamolo bene bene, eccolo qua, eh, guardate, bella bestia, eh, mezzo chilo di roba qui, eh, con le tagliatelle, questo è ottimo, c'è un pochettino di muffa, vedete, un pochino di muffa, quindi questo bisogna cucinarlo subito oggi, amici fungaroli, amici dei porcini, siamo sempre noi, dalla Sardegna, oggi siamo andati nel bosco, bagnatissimo, piove, che è una bellezza, e abbiamo trovato un misto di funghi di bosco, questi sono i classici imbutini, eh, bellini da fare trifolati, al sugo, anche in padella, abbiamo trovato dei violetti, eh, bellini, giovani, giovani, anche questi da fare, ricordate che questi sono un po' pericolosi, eh, quindi vanno prebolliti e poi li cucinano, oppure sotto olio bolliti, abbiamo trovato soltanto due gallinacci, due, un bel crattaiolo, un paio di funghi di ferula, eh, questo è il fungo di ferula, sardo, il fungo di carne, e un paio di, questi sono dei clittoccibe, eh, su cordoline patente, si dice in sardo, ed è buonissimo, e queste sono delle clavali, le mazzedercole, guardate, eh, un misto di funghi e di bosco, però oggi, 23 novembre, siamo stati fortunati, perché siamo imbattuti in questi, guardate che mostri di porcini neri, eh, bellissimi, questo è un, è un leccino, eh, siamo andati a cercare i leccini, uno solo, ma abbiamo trovato una dozzina di porcini, porcini neri, in questo periodo, qui da noi in Sardegna, sono rari, sono rari, guardate questi mostri di porcini neri, guardate, eh, spettacolari, bellissimi, è raro trovarli in questo periodo in Sardegna, perché generalmente il porcino nero, è un fungo termofilo, abbiamo bisogno di temperature più calde, guardate che bei porcini, guardate qua, questo piccoletto, eh, e guardate questo appena nato, guardate che bellezza, eh, e questo, guardate, spettacolare, bei porcini, sono stati una dosina di porcini, però, ci hanno dato una bella soddisfazione, oggi ci siamo divertiti, siamo andati per il fungo di bocchino, abbiamo trovato queste bestie di porcini neri, sui sette fratelli, è bello, ci siamo divertiti, ciao, alla prossima.